Lombardia Fondo prodotto per gli investimenti green L'Aggiunta regionale della Lombardia ha approvato gli elementi essenziali e i criteri applicativi del Fondo prodotto per gli investimenti green, dedicati all'efficientamento energetico degli impianti produttivi, per favorire la riduzione dell'impatto ambientale dei sistemi produttivi. I beneficiari di questo bando sono sia le PMI che le grandi imprese, costituite iscritte e attive nel registro delle imprese con almeno due bilanci depositati alla data di rappresentazione della domanda, con una sede operativa in Lombardia, con un rating da 1 a 10 secondo la metodologia del credit scoring sulla base dei dati storici del modello di valutazione per il calcolo della probabilità di inadempimento del Fondo Centrale di Garanzia. Vediamo quella che è l'agevolazione che per le micro e piccole imprese è fissata nel 35% a fondo perduto. Nel caso delle zone criterio 1 delle province di Pavia, Lodi, Como e Sondrio abbiamo la possibilità di avere un fondo perduto del 50%. Per le imprese in zona criterio 5 delle province di Mantua e Cremona si può avere un fondo perduto del 45%. Le medie imprese hanno invece un fondo perduto del 25%, del 40% nel caso delle zone criterio 1, del 35% nel caso delle zone criterio 5. Per le grandi imprese abbiamo un 15% a fondo perduto, abbiamo un 30% nel zone criterio 1 e un 25% nel zone criterio 5. È prevista una garanzia regionale gratuita su un finanziamento a medio e lungo termine erogato dai soggetti finanziatori e finalizzato ad ottenere le risorse finanziarie necessarie per l'investimento. L'importo minimo dell'investimento deve essere di 100.000 euro, l'importo massimo agevolabile tra finanziamento supportato da garanzia e contributo a fondo perduto è di 10 milioni di euro. Il tasso di interesse sarà un tasso di mercato applicato alle risorse finanziarie messe a disposizione dai soggetti finanziatori convenzionati. La durata sarà compresa tra un minimo di 3 anni e un massimo di 6, incluso l'eventuale pre-ammortamento fino a un massimo di 24 mesi. Saranno ammessi gli investimenti dedicati all'efficientamento energetico degli impianti produttivi delle imprese per favorire la riduzione dell'impatto ambientale dei propri sistemi produttivi, sia attraverso la riduzione dei consumi energetici che attraverso il recupero di energia o la cattura dei gas serra dai cicli produttivi esistenti. L'intervento di efficientamento energetico per essere ammissibile deve essere corredato in fase domanda dalla diagnosi energetica, finalizzata ad individuare esclusivamente gli investimenti o le soluzioni impiantistiche da implementare e oggetto di intervento, che devono trovare riscontro negli investimenti e nelle relative voci di spesa. La diagnosi energetica deve essere data in conformità alla norma UNIEN 16247 e riportare in modo evidente il consumo energetico e le emissioni clima alteranti prima e dopo l'intervento di efficientamento presentato ai fini dell'accesso dell'agevolazione. La riduzione delle emissioni deve essere di almeno il 30% rispetto alle emissioni ex ante relativamente alla specifica sede o oggetto di intervento. Vediamo quelle che sono le spese ammissibili. Le spese devono essere sostenute successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione e devono essere funzionali nell'intervento di efficientamento energetico ed espensamente indicate nella diagnosi energetica e sono in particolare l'acquisto e l'installazione di macchinari, impianti di produzione, attrezzature ed hardware necessari per il conseguimento delle finalità progettuali in sostituzione di quelli in uso presso la sede oggetto di intervento, ovvero funzionari del raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico dichiarati. L'acquisto e l'installazione e l'allacciamento alla rete di impianti per la produzione di energia rinnovabile, esclusivamente in combinazione con interventi delle voci A, C, D ed E. Acquisto e installazione di impianti di produzione di energia termica e frigorifera e di impianti di cogenerazione e trigenerazione. Acquisto e installazione di sistemi di accumulo dell'energia e di inverter. Acquisto e installazione di caldaie ad alta efficienza a condensazione a biomassa, ovvero pompe di calore in sostituzione di quelle in uso. Acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico. Acquisto e installazione di apparecchi LED a basso consumo in sostituzione dell'illuminazione tradizionale, il cosiddetto relamping. Acquisto di software, licenze d'uso software e costi per servizi software di tipo cloud e SaaS. Acquisto di brevetti, opere muriarie, opere di monifica e impiantistica se direttamente correlate e funzionali all'installazione dei beni di quelle a voci precedenti, nel limite massimo del 20% di tali voci di spesa. Costi di formazione relativi al progetto presentato. Spese tecniche di consulenza. Spese generali determinate con un tasso forfettario pari del 7% delle spese ammissibili. Gli interventi devono essere realizzati e rendi contatti entro 18 mesi dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto di concessione dell'agevolazione, salva motivata proroga di 3 mesi. Vediamo quelle che sono le scadenze. La pubblicazione di questo bando e quindi delle regole attuative è previsto entro marzo 2023. L'assegnazione del contributo sarà sportello valutativo secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di adesione con punteggio minimo di ammissibilità. Quindi occorre fare attenzione perché in questo caso, una volta superato il criterio minimo di ammissibilità, la giudicazione sarà in base all'ordine cronologico di presentazione. Quindi occorre sostanzialmente presentare per primi la domanda ed è per questo che occorre muoversi per tempo. Per assistenza alla presentazione avete qui tutti i miei riferimenti. Io sono Franco ancora sotto e questa è rete agevolazione.